Mena, 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 bagnoni qui. Eh sì, è collegato alla radio. Dove si accende la radio là? Allora si accende il quadro. Devi accendere il quadro. Questo lo mettiamo negli extra, eh? Aspetta. Rivai, rivai. Allora, mi date il via. Do io col battito di mano il ciac, eh? Si può alzare un po' il volume? No, si può alzare un po' il volume. Alza un po' il volume. Direi la destra. Sì, ma il volume non è importante. Le sentiamo. Ah, sì. Infatti non suonate, raga, fate finta di suonare. Tanto se riprende la parte. No, no, riprende tutto, diciamo. Sì, riprendo tutto quanto, voi, dai. Eh, la mancina. Sì. Sei pronta? Uno, due, tre. La bocca non fosse ripresa del pregnacce del tutto tipo, capito? Se lui deve lavorare per riprendere la bocca siamo fottuti. Eh, bravo. Cioè, se no, adesso che parlo di particolari, mi raccomando, poi sarà un gioco mio, non da preoccupare. Poi, per me, per me, per me, per me. Però non ci dobbiamo complicare la vita più di tardi. Eh, no, ma certo. Ecco, va bene così, perché, perfetto. Vai nella posizione tua? Sì. Sì, non ti taglio. Sì. Bellissimo. Un grand angolo al spasmodico. Io rientro alla ripresa in questo momento? Sì, 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 rientri, rientri. Te la devi peccare, non... Cioè, lui pensava di non farla, ma... Te la voleva scampare, volevi. Questa, questa, c'è stata una verra. Che vuole una verra? Spicolata. Dammi una verra, così, dammi una verra. Eh, dammi quella, dammi quella. No, non posso, però, sì. Palla in silenzio. Vai, vai. Uno, due, tre. Bene, bene, bene. Voglio... Vole, le, le, le... Continuo gli dietri. Continuo le dietri. Continuo gli dietri. Continuo le dietri. Continuo gli dietri. Continuo le dietri. Continuo gli dietri. Raga, sul lavoro ti piace tanto, a te, te pezza. Vai, 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 vai. Che bella questa. Vai, 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 vai. Ssh, vai. Possiamo andare. Musica. Fuoricampo, tutti fuoricampo. Vai, vai, vai. Ancora, ancora. Stop. Uno, due, tre. In silenzio. Uno, due, tre. Vai con l'altro. Guarda qua, guarda qua un attimo. Qua? Sì, vai, guarda loro. Guarda loro. Ehi, ehi, ehi. Ehi, ehi. Fugliamo il fiero. Che mai è il chantile, è me? Fermati, fermati qua. Oh, salutali, salutali. Oh, no. Vieni, ma l'uomo. Oh, ma l'uomo. Oh, ma l'uomo. Vai, vai. Vai, vai. Camminate. Sì. Vai. Salutateli, salutateli. Vai. Vieni vicino così, di nascoste, di nascoste. Appoggiati lì, appoggiati a lì. Vieni vicino così, di nascoste, di nascoste, di nascoste, di nascoste. Vieni vicino così, di nascoste, di nascoste, di nascoste, di nascoste, di nascoste. Vieni vicino, singolo, di nascoste. Vieni vicino così, di nascoste. Alla, vieni vicino solle. Ma se for insulti. Vieni vicino così, di nascoste. Grazie a tutti.